Arriva il Natale nel Castello di Montemaggiore. La festa più bella dell'anno si illumina con la luce della fantasia. Canti e concerti, creazioni artigianali dei bambini delle scuole, mostra fotografica, ma anche cinema col San Costanzo Show, teatro e buon cibo, che quest'anno diventa anche senza glutine grazie allo stand di AIC. Un occhio di riguardo anche alla solidarietà. Il 9 e 10 dicembre non potete mancare a Montemaggiore per vedere Natale nel Castello.